Che consiglio si sente di dare a chi dirige questi cori, insomma, che magari si trova un po' in difficoltà, magari deve seguire il consiglio ovviamente del parroco, ma vuole fare bene appunto per fare una liturgia appropriata? Io penso che se mette in pratica tutto quello che si è detto stasera, quindi se si guarda a ciò che il messale richiede, a ciò che la liturgia stessa insegna, un punto in comune lo si può trovare. Penso che la pazienza e la capacità di ascolto, reciproco ovviamente da parte del direttore, ma anche da parte del parroco, sia fondamentale. E non mai assolutizzare la propria posizione perché di assoluto c'è solo uno, il Padre Eterno. Anche perché chiudiamo appunto ricordando che poi bisogna cantare in funzione poi di quello che è il messaggio e della fede che ogni cantore deve avere dentro di sé. Chiaramente, il cantore è il coro, quindi si fa portavoce di tutta la chiesa e della fede di tutta la chiesa, quindi occorre davvero superare i propri limitati orizzonti ed entrare in un alveo molto più ampio e per questo più produttivo, più producente. Marco Guerinoni, uno dei fautori di questa serata, proprio per cominciare a festeggiare il 25esimo della Corale San Martino. Com'è andata prima di tutto e quali sono le conclusioni che si sono tirate tra coristi, direttori e parroci? Ma io direi che è andata bene perché abbiamo avuto una buona risposta sia dai nostri coristi, che sono venuti anche con le loro famiglie, sia da qualche maestro e anche qualche parroco dei paesi vicini. Per cui sono stato soddisfatto di aver creato questo momento di incontro e perché no, che ne vengano altri. Abbiamo sentito che anche il Vescovo vorrà poi, probabilmente l'anno prossimo, proporre dei momenti, quindi vuol dire che la riflessione è opportuna. Come ti senti di dare dei consigli a chi, insomma, come te si occupa un po' della coralità nella liturgia? È una domanda da 100 milioni di dollari, come si dice. Beh, io direi che comunque l'ambiente è ancora vivo, nonostante si parli di crisi a tutti i livelli, ma l'ambiente della coralità bergamasca, soprattutto in Valseriana, è molto vivo, c'è molta voglia di fare, soprattutto anche dai maestri, si è visto stasera perché il confronto è stato animato. Per cui il consiglio che mi sento di dare ai, diciamo, chiamiamoli colleghi, è quello di mantenere l'ambiente vivo. Creiamo occasioni di incontro tra di noi, tra i nostri coristi, perché alla fine comunque nascono anche delle belle amicizie ed è bello che si vada avanti con questo spirito. Ricordiamo il prossimo appuntamento per il venticinquesimo, proprio ospiti, diciamo così, della Curia, insomma, dove sarà presente la Corale San Martino. Sì, è la domenica quinta di Pasqua, il 28 aprile alle 10 e mezzo, siamo nella nostra cattedrale di Sant'Alessandro in Città Alta e animeremo la messa delle 10 e mezzo, per cui siamo emozionati e speriamo di fare un buon servizio in modo che di proseguire poi con il nostro spirito di ministero liturgico, insomma.